Salve a tutti, sono Angelo. Oggi vi propongo un dessert di fine pasto, i tartufini di castagne. Vediamo gli ingredienti che ci occorrono. 250 g di castagne, 80 g di zucchero a velo, 150 g di cioccolato bianco, 50 g di burro, 70 g di panna fresca e 2 cucchiai di cacao amaro. Iniziamo la preparazione mettendo a cuocere le castagne. Quindi con la punta dello spelucchino incidiamo la buccia e le mettiamo a bollire. Trascorse 20 minuti dall'ebollizione scolliamo le castagne e le spelliamo. Eliminiamo sia la buccia che la pellicina interna. E' importante non farle raffreddare perché se no diventa più difficoltoso poi toglie la pellicina interna. A questo punto rimettiamo le castagne a bollire e le lasciamo a cuocere fino a quanto diventano tenere. Nel frattempo scaldiamo la panna in una casseruola. Dopodiché aggiunciamo il cioccolato bianco e il burro ed amalgamiamo il tutto in modo da far sciogliere il composto molto lentamente. Una volta che le castagne sono pronte le riduciamo in purea. Le possiamo passare a uno schiacciapatate oppure a un passaveldure. A questo punto uniamo il composto di cioccolato alla purea di castagne, aggiungiamo anche lo zucchero e amalgamiamo bene il tutto. Una volta ottenuto un composto omogeneo lo poniamo in frigorifero a sudare. Per creare i tartufini ho deciso di utilizzare dei piccoli pilottini di carta. Quindi vado a spolverare la base con del cacao e li riempiamo con il composto che abbiamo messo in precedenza in un sacchetto da pasticceria. Spolveriamo nuovamente con il cacao. I nostri tartufini sono pronti, quindi li poniamo nuovamente in frigorifero a sudare e li toglieremo fuori solo al momento del servizio. Come avete visto è un dessert molto semplice da preparare ed è anche molto comodo perché può essere preparato in anticipo. Lancio un saluto e alla prossima ricetta.